Sesta Elevante Sesta Elevante Sesta Elevante Sesta Elevante Sesta Elevante E' per questo che gli investigatori coordinati dall'aggiunto Francesco Pinto sentiranno tutti i medici che hanno avuto a che fare con la studentessa da quelli del lab vaccinale fino ai sanitari dell'ospedale San Martino di Genova dove la ragazza è morta nonostante due interventi chirurgici oltre a loro verranno sentiti anche il medico curante e il ginecologo che un paio di giorni dopo il vaccino le ha prescritto ProGinova e Dufaston per curare un problema di cisti ovariche le attenzioni dei NAS a cui i PM hanno affidato le indagini si concentrano anche sul primo ricovere su quanto successo il 3 giugno Camilla era arrivata con un forte mal di testa e fotosensibilità aveva anche una piastrinopenia male venne fatta solo un'attacca senza contrasto dalle prime informazioni e venne dimessa il giorno dopo il 5 notte la situazione è peggiore la studentessa ritorna al pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna dove però le mandano subito al San Martino la famiglia ha sempre detto che la ragazza stava bene e ieri ha depositato le analisi del sangue del 2014 abbiamo piena fiducia nella procura e nei consulenti nominati il nostro consulente li affiancherà solo per fornire un contributo all'accertamento dei fatti ha spiegato il legale Angelo Paone l'ospedale San Martino di Genova informa che un paziente maschio di 34 anni è stato si legge nel comunicato trasferito presso le nostre strutture con una probabile sindrome trombocitopenica trombotica vaccinato con Johnson & Johnson il 5 giugno al momento della sintomatologia si trovava in undicesima giornata post vaccinale durante le prime fasi del ricovero accanto all'elemento distintivo del calo delle piastrine si è manifestata una sindrome neurologica trattata rapidamente con successo dal lab neuroradiologico è stata avviata l'indagine per la ricerca degli anticorpi anti-PF4 per confermare il sospetto di sintesi trombotica è stata iniziata la terapia con anticoagulanti come previsto dal protocollo di Alisa all'Agenzia Sanitaria Ligure per la gestione diagnostico-terapeutica degli eventi tromboembolici post vaccinazione con vaccino a vettore virale attualmente il paziente è cosciente e al completamento della fase diagnostica sarà trasferito presso la terapia intensiva generale del monoblocco sono circa 500 le persone contattate ieri dal call center di Regione Liguria per anticipare la prima dose di vaccini anti-covid-19 sono 15 gli operatori al lavoro per accelerare la campagna vaccinale dopo lo stop di AstraZeneca e Johnson & Johnson per chi ha meno di 60 anni nei prossimi giorni gli operatori saliranno fino a quota 50 la decisione di anticipare la prima dose a chi ha già prenotato ha l'obiettivo di mantenere il target di somministrazione assegnati alla Liguria dalla struttura commissariale piccola risalita intanto oggi per quanto riguarda i casi di coronavirus riscontrati nella nostra regione 21 su 4.200 tamponi molecolari processati dei nuovi casi 3 sono nel territorio dell'Ausle 4 calano gli ospedalizzati sono 48 di cui 11 in terapia intensiva e quindi 15 in meno di ieri mentre rimane vuoto il reparto covid dell'ospedale di Sesto e Levante nel bollettino diramato oggi da Alisa non ci sono deceduti Paolo Bendinelli il cosiddetto guru del centro anidra di Borzonasca resta in carcere così ha deciso il tribunale del riesame che ha rifiutato la richiesta di mandarlo agli arresti domiciliari presentata dal suo avvocato ritenendo molto probabilmente ci sia pericolo di inquinamento delle prove o di fugga in relazione alla morte della quarantenne di Chiavari e figlia dell'ex sindaco della città dei Portici Roberto Repetto l'uomo è accusato di omicidio volontario con dolo eventuale i cantieri autostradali stanno paralizzando il traffico in Liguria il presidente di Regione Liguria Giovanni Totti ha annunciato che lunedì prossimo con i sindaci Liguri incontrerà il governo per chiedere soluzioni praticabili e definitive ad oggi Regione Liguria ha ottenuto di ridurre il più possibile l'impatto dei lavori e la sospensione di molti cantieri nei fine settimana non sempre si riesce precisa Totti perché ci sono lavori che per sicurezza non possono essere rimandati una situazione che evidentemente dipende anche da ritardi accumulati negli anni da chi doveva provvedere tutte le autostrade devono essere gratuite in Liguria totalmente a prescindere dalla tratta fino a quando non saranno terminati i lavori di messa in sicurezza dice ancora Totti aggiungendo che si tratta di una richiesta già avanzata al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile unico titolare delle concessioni a tutti i gestori autostradali se non si può modificare il piano dei cantieri conclude il governatore almeno si eviti la beffa del pedaggio per un servizio che non c'è inizia la pulizia del torrente Rupinaro e dei rivi affluenti a Chiavari un intervento che ci accingiamo a svolgere ogni anno in questo periodo che va a modularsi in base alla crescita vegetale e alla presenza di acqua per scongiurare situazioni di criticità favorendo il più possibile del flusso e garantendo la portata massima verso il mare dice il sindaco di Chiavari Marco Di Capua dalla foce fino a San Terenziano è previsto lo sfalcio della vegetazione presente e la pulizia anche delle relative tombinature dei canali di scola a monte di corso Valparaiso è in corso intanto la gara per la pulizia degli affluenti del fiume Entella e per ulteriori tratti di quello del torrente Rupinaro Gli studenti di Cogorno che frequentano il primo anno di scuola secondaria dal prossimo anno potranno usufruire del servizio di trasporto scolastico l'accordo è stato raggiunto in seguito all'incontro tra la giunta comunale di Cogorno e ATP la montare della riduzione dipenderà dall'adesione al servizio e dal numero degli abbonati il primo obiettivo è incoraggiare l'utilizzo del trasporto pubblico locale favorendo una mobilità sostenibile in secondo luogo l'amministrazione comunale intende garantire alle famiglie dei ragazzi residenti nel nostro comune una riduzione delle tariffe in vigore con uno sconto rispetto al prezzo dell'abbonamento normale spiegano il sindaco di Cogorno Gino Garibaldi e il consigliere comunale con delega ai trasporti Luca Beo Torrente Francesco Bruzzo Presidente della Società Economica immagino oggi particolarmente lieto di riaprire i palazzi della Società Economica per un evento così importante e finalmente in presenza quindi che emozione è quella di oggi? è una bellissima emozione a mio avviso è già un successo il fatto di riaprire in presenza lo abbiamo fatto proprio sfruttando al massimo questi decreti diciamo e Dio solo sa quanto l'abbiamo sofferta questa partenza perché saranno oltre 6-7 mesi che lottiamo per avere degli spazi diciamo con queste regole speriamo che questo sia veramente l'inizio di una luce così come viene anche rappresentata benissimo nel titolo trame di luce che non che non è per questo ma comunque rende benissimo l'idea l'altro successo direi che inquadrato nei 230 anni della Società Economica è questo collegamento ideale di tutto quello che è stato fatto dalla Società Economica per l'artigianato e per l'arte anche attraverso la creazione della scuola d'arte nella quale appunto Augusto Santassisto che tra l'altro è anche nostro socio ha imparato le prime erudizioni diciamo che hanno plasmato la sua innata capacità poi ha fatto tutta la sua carriera a Urbino a Carrara a Torino e poi è rientrata anche come professoressa applaudita da tanti giovani nella scuola d'arte quindi un ritorno a casa per Augusto Santassisto è una casa che si apre per riaccogliere il suo pubblico quindi ricordiamo l'inaugurazione della mostra e fino a quando durerà sì l'inaugurazione è questo sabato e durerà fino al 3 di luglio con degli orari che speriamo si vadano bene soprattutto per diciamo coloro che nello stesso tempo vogliono anche fruire delle vacanze a Chiavari Augusta Tassisto oggi è il giorno della presentazione alla stampa in attesa dell'inaugurazione vera e propria della mostra antologica Trame di Luce immagino sia un'emozione anche perché è un bel percorso estetico che racconta una vita e una attività artistica lunga sì abbastanza perché si comincia da bambini a disegnare per divertimento poi andando avanti ci si accorge che diventa una cosa seria e quindi da un certo punto in poi si cominciano a conservare delle cose dei lavori e comincerei proprio a parlare delle incisioni perché sono state le prime che ho fatto dal 1970 73 in poi fino ad arrivare a un certo punto compreso comunque parallelamente all'insegnamento nelle accademie della tecnica dell'incisione poi sono arrivate anche le tempere poi sono arrivati i pastelli e anche due oli ci sono e quindi sì è un percorso nel tempo e della mia vita quindi insomma i visitatori di questa mostra avranno la possibilità di seguire questo percorso attraverso la sua filosofia estetica ma come mai l'incisione perché non è così usuale come te è stata una passione che mi è nata da giovane che ho seguito nelle scuole soprattutto di Urbino e che ho sperimentato che ho portato avanti negli anni fino ad arrivare al punto di insegnarla agli altri e le manca un po' l'insegnamento molto perché era un bel rapporto anche diciamo gratificante con gli allievi e ho imparato anche da loro in uno scambio con ti sì Margherita Casaretto insomma anche lei felice oggi immagino di aprire questo evento in presenza che però sarà soltanto uno dei tanti eventi che si collocheranno in questi festeggiamenti per i 230 anni dell'economica e culmineranno anche con un'altra mostra dedicata proprio all'arte e all'artigianato sì siamo veramente contenti finalmente dopo tanto periodo di chiusura siamo contentissimi di riuscire a fare questa mostra antologica di un artista veramente che prende il cuore parte dall'incisione arriva a per ultimo fino ad Olli Tempere eccetera comunque noi come tradizione della società economica che manterremo anche nel futuro abbiamo da sempre sono stati premiati artisti artigiani locali o del comprensorio che hanno lavorato a Chiavari o vicino a noi infatti a settembre riusciremo a fare anche una mostra fra gli avvenimenti della società economica la festa grande che faremo a settembre anche una mostra antologica di una trentina di artisti e artigiani che sono stati premiati negli ultimi anni della nostra società dopo lo stop dovuto al fatto della pandemia riprende l'iniziativa il sindaco a casa tua saremo in mezzo alla gente nelle piazze nelle vie di casarza questa è un'iniziativa che abbiamo preso all'inizio mandato ed ha ottenuto già dei buoni frutti perché ogni volta che si incontrano le persone soprattutto quando si incontrano per strada dove vivono si viene anche a conoscenza delle problematiche che ci sono e quindi si riesce anche a risolverle meglio mercoledì 16 giugno proseguiamo questo percorso in piazza della contrada in via 4 novembre una zona centrale di casarza che comunque ha delle problematiche da affrontare proseguiremo poi in tutto il territorio casarzese crediamo che con questa iniziativa veramente l'amministrazione debba continuare ad essere vicino ai propri cittadini vicino alle loro istanze soprattutto lì dove vivono quindi vi invito avrete ricevuto a casa una lettera che è autofinanziata lo voglio dire dal gruppo di maggioranza casarza di tutti quindi l'abbiamo pagata noi come gruppo di maggioranza riceverete questa lettera dove sono indicati anche i riferimenti se volete contattarmi personalmente perché non potete essere presenti fisicamente ho lasciato tutti gli indirizzi i numeri di telefono e cercherò di rispondere a tutti o uno per uno grazie ancora grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.